2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 6, 7 7, 8 8, 9 5, 6, 7 6, 7 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 12 12 12 13 14 12 13 14 14 15 14 15 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 16 16 16 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18 18 21 21 22 22 22 22 23 22 23 25 25 28 29 29 29 30 30 Bra 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti